La malattia mentale può diventare una malattia con cui si può convivere ecco se viene trattata in maniera umana tu puoi avere il tuo disturbo ma puoi continuare a essere una persona normale tra virgolette. Potrei avere una vita che non sia tutta confinata nelle mura del manicomio Capivo che lui si comportava da matto ma secondo dei canoni che io capivo perfettamente Grazie a tutti